oggi sponsorizzo Jason Gamer benvenuti al talent show dello sponsorizzazione qui vincete premi se ho superato le sfide eh oggi il premiato è il nostro caro animatore drawing cartoons 2 Jason Gamer ok detta così suona male però vabbè vabbè comunque è finita qui lo sponsorizzato e quindi mi piace sponsorizzarlo